compa non ti consensione troppo che te la vuoi addosso signori buonasera si si non crederete ai vostri occhi ma noi sono io siamo noi in spiaggia a self casting tra virgolette tra virgolette che non hai self casting è un semplicemente fatto insomma iniziamo di tempo è una uscita per stare un po esatto ogni tanto ci incontriamo e ciò fatto di stata una pescatina dunque iniziamo con bibi bracciolo dello 0 0 0 23 signori non dare queste informazioni non sono abituato a usare questi fili però va bene ecco adesso siamo in schiaggia e for carbon va usato giusto i piccoli si piccoli sta facendo il trenino del del bibi e dell'amore poi magari appena fa un po buio io ho preso anche della bella renicola eccola qua insomma troppo sottile no no buona buona appena appunto si fa buio sentiamo di insidiare qualche mormo dal momento sicuramente o quantomeno ci spera proviamo con con le orate compa pronto sei ci vediamo il lancio di no no vai compa devi lanciare compa facci vedere come lanci dai 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 ecco la mezza del paradito ragazzi scusatelo lui è un po così un po si fa prendere la mano ecco poi isa compa mi raccomando non mi far fare brutta figura è un pendolo compa un pendolone come a te isa ah va bene bravo compare va bene va bene dunque tra le fissa chiaramente montatura fissa da solo lungo circa 2 metri anch'io con trenino di bibi e chiaramente abbiamo stavolta e anche a questo sono molto abituato 0,50 shock leader 0,25 giustamente in spiaggia va bene così va bene lancio io non ridete troppo però anzi faccio il video non giudicatemi troppo e allora ecco a voi il gay lanza si prepara il gay lanza eccolo dai qualche nozione tecnica te la do io vediamo come va via anche le pietre sono volate allora come primo io lancio come inizio effettivamente un po così diamo un po di tensare finalmente qua posso poggiare il piombo sulla sabbia hai visto compa tu che mi critichi sempre che lo poggio sugli scogli esattamente bene bene allora abbiamo tutto pronto di là le prime due già sono piazzate si spera è un po un po più orizzontale il video se no poi arriva qualcuno e dice ma il livello orizzontale è così compa dobbiamo salire un po ecco qua facciamo un saluto come si blocca qui signori sta per siamo all'imbrunire tramontare il sole eccolo là è un pesce ancora non l'abbiamo visto non pesce l'onda del pesce ancora non l'abbiamo visto siamo qui da tre ore bene bene ma noi ci crediamo magari appena fa buio vediamo qualche morco si spera si spera lo sento lo sento lo sento lo sento compa lo sento mamma il luce vieni compa dov'èishing il norco dove sei potrebbe essere andata fuori dai vai cuore vieni lo sento e sei andato ho il gi deber celebro qui non c'è non ci credo la canna è chiedata e che non non la sento più e ti viene incontro sicuro eh compa non c'è oh mi ha sfizionato e se n'è andata no qua e qua oh se n'è andata se n'è andato porca di quella zozza peccato peccato oh compa vedi che carino era e baffanculo oh incredibile ragazzi ma purtroppo se n'è andata ma figlie eh 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 guarda 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 dai dai e dai e dai e dai fai bravo forse stavolta c'è compa può essere dai 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 fai bravo dai 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 non deve andare non sento niente non sento niente niente proprio zeo ma che dobbiamo fare non sento proprio nulla boh è incredibile oh qua e qua eh eh qua eh qua eh qua eh eh qua ehまぁ non ti vergogna e mi mã ma non ti vergogni ma che è guarda cos'è compa piccolo palottino ah compa guarda guarda che carino ma dico io compa il porti alla forbice compa ma cos'è che pesce è boh ditemelo questo è un guaretto compa allora si portami la forbice ho ingoiato tutto l'amo signore purtroppo io non riesco a salvarlo non credo proprio si salvi io qua slamatore non ne ho o se ce la fa ma io non credo ce la faccia forse ce la fa oi vai vai via raffaello 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 eh mi dispiace ma non ce la fa stavolta troppo l'amo era troppo in gola non ce la fa peccato questi diventano grandi e vabbè va bene signori diciamo che è stata una serata abbastanza pesante però di tutto di più la mia canna io l'ho ritirata ora aspettiamo che ritira la canna anche il mio amico Mauro compa ehi abbiamo visto qualche tocca qualche tocca l'abbiamo visto un pesce carino l'abbiamo perso io l'ho perso forse l'amo troppo piccolo però l'abbiamo perso niente di serio poi vabbè quel piccolo pescetto purtroppo non ce l'ha fatta non ce l'ha fatta è diventato sicuramente preda di qualche altro pesce e che dire alla prossima ci abbiamo provato pure di notte per adesso pesci seri seri non ce l'ha c'era qualche pesce carino ma ce l'ha fatta Franca alla prossima un abbraccio Isa Isa ciao Isa ammo nella casa andiamo a casa